Strada provinciale, l'accordo di programma e le opere in generale della provincia, qual è il punto della situazione? Siamo praticamente arrivati alla conclusione, entro la fine di febbraio, i primi di marzo dovrebbe esserci il progetto definitivo dell'inalveamento del Rio del Conte che è l'opera principale, anche perché prima bisogna realizzare il nuovo tratto di alveo e poi sopra andare con il nuovo tratto della provinciale. Ovvio che il progetto avrà poi bisogno anche dell'autorizzazione del piano di bacino e ovviamente della verifica idraulica, ma si pensa che verso la fine di marzo e primi di aprile possa essere finito l'iter autorizzativo e si possa incominciare con le opere. Ovvio che saranno opere importanti, soprattutto quella provinciale che determinerà anche comunque una modificazione del flusso delle macchine che passano sulla provinciale, ma io penso che questo possa arrivare dopo l'estate. Il primo tratto che verrà fatto è quello della prima porzione di inalveamento del Rio del Conte all'interno delle parti private e pensiamo che possa essere in appalto i primi di maggio. Una cosa importante non solo per la viabilità e la sicurezza stradale, ma anche per l'indotto e per il lavoro che si genera nella zona. Beh, assolutamente sì. Ovvio che miglioreranno i temi della sicurezza dei cittadini, perché un rettifilo della provinciale, praticamente da altezza Pasqualini fino ai capannoni industriali e l'inalveamento, praticamente la nuova esecuzione di un fiume, di un tratto di alveo, siano a garanzia della sicurezza dei cittadini. Ma senza sottovalutare quello che dicevi tu, cioè l'aspetto poi della ricaduta sul mondo edile di questo territorio. Perché qua parliamo di quasi 4 milioni di opere che saranno ovviamente messe a disposizione del territorio. E io penso che qua lo scenario possa realmente cambiare. Cisano possa anche diventare non solo un polo edile importante, ma anche economico. Perché ovviamente queste sono opere propedeutiche alla costruzione di capannoni e consentiranno aziende italiane in generale venire a investire qua. Vorrà dire portare nuovi posti di lavoro e generare la costruzione di nuovi capannoni che aumenteranno ancora di più l'offerta edile sul nostro territorio. E di questo siamo particolarmente fieri perché consideriamo Cisano adesso il polo edile più importante probabilmente della provincia di Savona.